Il 29 giugno, Solennità dei Santi Pietro e Paolo, è una data nella quale molti sacerdoti ricordano il giorno della loro ordinazione sacerdotale. Nella nostra diocesi lo è stato sicuramente per molti. In queste immagini si racconta proprio la festa che Don Zeno Gori e Don Quinto Giorgini hanno vissuto insieme nel ricordare il sessantesimo di ordinazione sacerdotale. Era il 29 giugno 1963 quando per l'imposizione per la preghiera sacerdotale di Monsignor Abele Conigli nella cattedrale di San Sepolcro. Allora San Sepolcro era diocesi, Abele Conigli era nella cronologia episcopale, l'ultimo vescovo. Ecco quel giorno per l'imposizione delle mani del vescovo Abele e la preghiera sacerdotale Don Zeno e Don Quinto diventavano sacerdoti. In queste immagini vediamo l'arrivo del vescovo Andrea accolto da Don Giancarlo Rapacini e l'incontro che c'è stato sulla soglia della porta con Don Zeno. All'interno il coro che si stava preparando per rendere al meglio con il canto è ancora più bella partecipata alla celebrazione eucaristica. E poi i concelebranti che aspettavano all'interno della sacrestia dove si trova anche una piccola cappella per le celebrazioni feriali. E quindi la Santa Messa. Durante l'Omelia il vescovo Andrea ha voluto sottolineare il bell'anniversario di questi 60 anni di sacerdozio di Don Zeno e di Don Quinto. Anniversario accompagnato dalla presenza di tanti preti amici, dalla presenza del popolo di Dio, dalla presenza di familiari, di parrocchiani, dagli amici e quindi è la chiesa, ha sottolineato il vescovo Andrea, che fa festa. Prendendo spunto dalla liturgia della parola della tredicesima domenica del tempo ordinario, ecco prendendo spunto da questa parola il vescovo ha voluto declinare la figura del prete, quindi si è domandato chi è il prete e quindi ha cominciato a darsi una risposta dicendo di guardare alla vita di 60 anni di Don Zeno e di Don Quinto e scoprire la ricchezza della loro esistenza, della loro vocazione. Una vocazione che ha voluto significare proprio l'ospitalità che i due presbiteri hanno dato a Dio nella propria vita di preghiera, nel proprio essere ministri, nel proprio essere di vivere anche la fraternità. Ecco in tutte queste cose hanno saputo ascoltare Dio e lo hanno potuto ospitare nella propria vita. Il prete, dice il vescovo, è un uomo di Dio, ma è un uomo di Dio, ha continuato perché ha cercato di accoglierlo, di ascoltarlo, di scoprirlo, di amarlo, di incontrarlo nella scrittura, nella celebrazione dei sacramenti. Quindi il prete in una comunità ha accolto ma anche invitato ad accogliere Dio. Un secondo aspetto della vita del prete è una vita che per vocazione sceglie di non sposarsi, eppure è una vita feconda. Per un prete essere fecondo significa avere la capacità di fare il bene, guardando a loro quindi scoprire il bene che ci hanno fatto, ha sottolineato Monsignor Migliavacca. Il loro ascolto, la loro testimonianza, la condivisione della sofferenza, la parola che ci hanno regalato, la carità. Quindi il racconto del bene della loro vita è il racconto di una vita feconda. E poi, ultima cosa, la vita di un prete è un cuore che ama sostanzialmente, è un cuore che si è lasciato amare da Gesù, che ha scoperto nella propria vita la passione di amare, di amare con Gesù, di amare come lui e dare la vita. La vita di un prete quindi è una vita donata, una vita regalata, e una vita che non ha avuto paura di spendersi per gli altri, anzi ha provato gioia nel donarsi per gli altri. Don Zeno, Don Quinto non hanno pensato per sé, ma hanno pensato agli altri. Prima della benedizione finale, Don Quinto Giorgini, anche a nome di Don Zeno, ha rivolto un ringraziamento sentito a tutti i presenti. Alla conclusione della messa è stato consegnato un regalo a Don Zeno, una serie di litografie del maestro Stefano Camaiti, litografie che compongono un libricino dal titolo Il Cuore di Veronica, Santa Veronica Giuliani. Sono delle litografie, sono degli studi preparatori per un quadro che Stefano Camaiti sta preparando.